E' in prognosi riservata il commerciante di 36 anni ha coltellato nella notte a lama la polizia sulle tracce del presunto aggressore. La polizia di Stato ha sequestrato bene ad un latitante per oltre un milione di euro tra contanti auto, immobili, società e Rolex è accaduto a Taranto. Auto contro mano e impatta contro una vettura paura immattinata sulla strada statale 106 Ionica alle porte di Taranto. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti all'edizione provinciale della telegiornale di Taranto che come avete sentito dai titoli apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Intanto un accoltellamento, un fatto di sangue, in prognosi riservata il commerciante di 36 anni ha coltellato nella notte a lama la polizia e sulle tracce del presunto aggressore. Sentiamo. Follia a lama, borgata di Taranto, nella tarda serata di giovedì 20 luglio. Un uomo di 36 anni, titolare di un distributore H24, è stato accoltellato proprio nei pressi della sua attività commerciale. Ora è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si è appreso, è stato ferito con tre fendenti alla parte sinistra dell'addome. Trasportato con urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, le sue condizioni sono state definite subito critiche. L'aggressione è avvenuta in contrada a battaglia, poco prima della mezzanotte. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche tre volanti della polizia di Stato, della questura di Taranto e gli uomini della squadra mobile. Si indaga per risalire all'autore e al movente. La polizia ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del ferimento e sarebbe già sulle tracce del presunto autore. Non si esclude nessuna ipotesi dalla lite finita nel sangue, quella più accreditata, al tentativo di rapina. Sempre a Taranto la polizia di Stato ha sequestrato beni ad un latitante per oltre un milione di euro tra conti correnti, auto, immobili, società e Rolex. Sequestro da un milione e duecentomila euro della polizia di Stato nei confronti di un pregiudicato tarantino di 35 anni, attualmente latitante, è accusato di essere una colonna portante di un soddilizio criminoso che si occupa di spaccio di droga, ma anche riciclaggio e altri reati. Il personale della divisione anticrimine ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Lecce, sezione e riesame, misure di prevenzione. Tra il 2010 e il 2022, secondo le indagini, evidente sarebbe la sproporzione dei beni nella disponibilità dell'uomo e la sua capacità reddituale. Sotto sigilli sono finiti cinque conti correnti, depositi postali, un'autovettura, nove immobili ubicati a Taranto, tra cui un'ampia villa, due società, una ditta individuale, 12.000 euro in contanti e cinque orologi Rolex. Droga destinata ai detenuti della casa circondariale di Taranto è recapitata dopo averla occultata all'interno di pezzettini di formaggio. La manovra però non è sfuggita agli agenti di polizia penitenziaria che hanno sequestrato lo stupefacente. E sull'argomento è intervenuta la FNS CISL di Taranto Brindisi, ancora una volta la dedizione e la professionalità del personale di polizia penitenziaria e del reparto colloqui della casa circondariale di Taranto Magli hanno dimostrato risultati straordinari nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti all'interno della struttura carceraria ionica. Nonostante la carenza organica, aggiungono dal sindacato il reparto colloqui ha recentemente compiuto un importante ritrovamento durante i controlli, di rinvenuti circa 45 grammi di sostanza stupefacente occultati nel formaggio. La CISL si congratula sinceramente con il personale della polizia penitenziaria scritto in una nota ufficiale. Ancora cronaca, ma cambiamo argomento, parliamo di gioco illegale perché la Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione di oltre un milione di euro a Taranto. E' pari a oltre un milione di euro il prelievo unico erariale evaso da due associazioni culturali tarantine in relazione all'illecito utilizzo di apparecchi e congegni da divertimento del tipo Amusement with Prices in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro. E' quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto durante i controlli a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli rappresentano lo sviluppo sul piano fiscale di numerose operazioni di servizio che hanno portato all'individuazione e al sequestro di apparecchi di divertimento e intrattenimento non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla segnalazione alla competente autorità amministrativa. Ricostruito il volume complessivo delle giocate e quantificate in oltre 4,2 milioni di euro, la base imponibile è sottratta a tassazione. Gli investigatori del gruppo di Taranto hanno constatato l'evasione del prelevo unico erariale per un importo di oltre un milione. I controlli dei finanzieri proseguono per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e di abusivismo nel settore dei giochi, compresi quelli online. In merito al servizio andato in onda nell'edizione di ieri del Tg di Taranto è doveroso sottolineare che i rifiuti andati in fiume nell'ex cava alla periferia di Grottaglie sono stati abbandonati dai gnoti. La proprietà del terreno sul quale insiste la cava, sottolinea la redazione, che era stato segnalato agli enti competenti il reterarsi dell'immissione nella cava in questione di materiale di ogni genere nonostante fosse stata fissa la segnaletica di divieto di discariche e proprietà privata e l'area fosse stata sbarrata nell'accesso con grossi macini. Ad oggi, concludono i proprietari del terreno, la problematica si ripete pertanto viene chiesto un maggiore controllo del territorio. Paura sulla statale 106 Ionica alle porte di Taranto Stando alle notizie raccolte, ancora da accertare, un'auto, una Fiat 600 Par stesse viaggiando contro mano dirigendosi verso il capoluogo Ionico. C'è stato un impatto con un'altra vettura, fortunatamente senza gravissime conseguenze. Il bilancio è di un ferito, quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118. E ancora un violento impatto nelle prime ore del mattino a San Giorgio Ionico coinvolte tre auto, una di queste è una Opel, ha terminato la sua corsa su un fianco sul marciapiedi. Le altre auto coinvolte nel sinistro sono una Jeep Renegade ed una Smart sul posto, la polizia locale. Archiviamo la cronaca, cambiamo argomento. L'Asla di Taranto e i sindacati hanno sottoscritto un protocollo che favorisce il domicilio come miglior luogo di cura. Il protocollo cure domiciliari tra Asla di Taranto e organizzazioni sindacali è stato presentato presso l'auditorium del padiglione Vinci della presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Taranto. Sicuramente il protocollo rappresenta un primo passo, è un pezzo di un mosaico molto vasto. Il problema della sanità a Taranto non è solo un protocollo sulle cure domiciliari. Apprezziamo però positivamente l'approccio da parte della direzione generale. Sul territorio abbiamo notevoli problemi di persone che hanno bisogno di essere assistite, ma parlo anche dei caregiver, di coloro che hanno questa necessità, e parlo anche di chi non ha i caregiver, anche soprattutto di quelli. Quindi il fatto di estendere l'assistenza domiciliare da 5 a 6 giorni, a seconda di livello da 6 a 7, è un passo importante che però deve essere accompagnato con un'analisi. È un modo per alleggerire il carico di lavoro? Assolutamente sì. Il Covid ha dato un messaggio ben preciso, cosa ha potuto significare avere un sistema ospedalocentrico, con una medicina territoriale che nel corso di questi anni, un tema ovviamente che non riguarda soltanto il nostro territorio, riguarda la regione, riguarda il paese. Cure domiciliari, assistenza domiciliare integrata, ASL e organizzazioni sindacali insieme, per garantire e favorire quello che è il domicilio come miglior luogo di cura. Con le organizzazioni sindacali abbiamo messo a punto un protocollo che oggi sottoscriviamo per quanto riguarda proprio le cure domiciliari, che condividiamo, ma soprattutto per far sì che sia il più possibile, fatto a misura di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Ad ora parliamo della bilancio di orizzonti di legalità Taranto, attività laboratoriali che hanno visto protagonisti 20 minori a rischio di devianza. 40 ragazzi di due centri diurni di Sava e Taranto a rischio di devianza e in situazioni di disagio socio-familiare hanno partecipato per un anno ad attività laboratoriali. Un'opportunità per farli socializzare, ma soprattutto renderli protagonisti di concetti ed esempi di educazione civica e legalità. È accaduto grazie al progetto finanziato dalla regione Puglia, Orizzonti di Legalità. Noi uffici giudiziari minorili, sia procura che tribunali minori, siamo chiaramente deputati a seguire il benessere dei nostri ragazzi, non soltanto nel momento in cui chiaramente impattano l'area del penalmente rilevante, ma anche in una fase precedente. E questo progetto è particolarmente importante perché ha una finalità preventiva. Partiamo da questo progetto proprio per prendere le mosse per una programmazione che vedrà impegnate le cooperative sociali con le associazioni che ovviamente hanno messo in campo tutta la loro attività per portare questi ragazzi all'interno dei teatri, all'interno delle istituzioni, per condurli anche in quelli che sono i laboratori velici o addirittura a molti di loro hanno partecipato anche ai laboratori delle stampanti 3D. Ricorso presentato da alcuni partecipanti al concorso per 315 unità nell'arsenale di Taranto si è svolta l'udienza camerale. Sentiamo com'è andata. Si è in attesa di un provvedimento cautelare, quindi provvisorio, a seguito dell'udienza camerale relativamente al ricorso attualmente pendente dinanzi al Tar da parte di alcuni partecipanti al concorso per 315 unità nell'arsenale militare marittimo di Taranto e quanto dichiara l'avvocato Danilo Granata, legale difensore dei ricorrenti. Al momento si è svolta l'udienza camerale e siamo in attesa di un provvedimento cautelare, quindi di un provvedimento provvisorio. Dopodiché ci sarà chiaramente l'udienza finale e quindi uscirà poi una sentenza definitiva in cui il giudice avrà una commissione piena. Facciamo un passo indietro. Perché è partito il ricorso? Perché è partito questo ricorso? Per farla breve, l'amministrazione resistente, o meglio Formez e PA, ha introdotto ex abrutto, che addirittura dopo lo svolgimento del test preselettivo, delle soglie minime di punteggio per accedere alla successiva prova scritta. Quest'introduzione chiaramente è avvenuta senza che fosse prevista dal bando e ha spiazzato i miei clienti, cioè i miei ricorrenti, ma in generale i candidati concorsisti, che chiaramente si sono ritrovati esclusi senza sapere perché, senza conoscere prima delle soglie minime di accesso. Chiaramente ciò li avrebbe orientati diversamente durante lo svolgimento del test, quindi sarebbero cambiate anche diverse scelte strategiche. Le aziende hanno bisogno di personale e i lavoratori hanno bisogno di formazione adeguata. Il mercato del lavoro richiede formazione e su questa bisogna puntare. Così l'onorevole Dario Iai a Sava in occasione del terzo Job Day. È stato il giovane Simone a portare la sua personale testimonianza sulla utilità del progetto Punti Cardinali avviato dall'amministrazione comunale di Sava. Lo sportello Job Day trova spazio all'interno dell'ex mercato comunale di Via Fratelli Bandiera, ristrutturato e restituito alla comunità. È stata un'esperienza molto positiva perché mi ha permesso di mettermi in gioco e di confrontarmi con altra gente che come me ha voglia di migliorarsi. Sava ha risposto bene a questo Job Day? Sì, sì, assolutamente. Questo è il terzo Job Day che si va a collocare nell'ampio progetto di Punti Cardinali. È un progetto che sta riscuotendo tantissimo successo sul territorio, atteso che comunque c'è una importante richiesta da parte dei cittadini che si affacciano quotidianamente allo sportello informativo. Orientamento e formazione le finalità del progetto, ma quale al momento sia la situazione occupazionale, lo spiega l'onorevole Dario Iaia. Ci registriamo una situazione che è particolare, che è paradossale da un certo punto di vista, nel senso che da una parte le percentuali di disoccupazione giovanile e femminile sono abbastanza elevate qui al sud, ma dall'altra parte le imprese cercano occupati, cercano lavoratori dipendenti, ma non ne trovano perché molti lavoratori non sono formati. Quindi dobbiamo spingere dal punto di vista della formazione e fare in modo che i giovani, le donne, ma un po' i disoccupati, si formino in una certa maniera e diano delle risposte alle imprese che appunto hanno bisogno di lavoratori per poter andare avanti. E tutto per quanto riguarda l'edizione provinciale della telegiornale di Taranto, tra pochissimo invece le notizie che riguardano Brindisi e il suo territorio. E caccia da parte dei carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni al presunto boss della Sacra Corona Unita e al padre che si sono sottratti alla cattura nel blitz di martedì scorso. Garantire la sicurezza ai bagnanti e ai diportisti, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha intensificato i controlli sul territorio. Abbiamo ascoltato il comandante Amitrano. Grande successo per la mostra di Caravaggio di scena nel castello Normanno Svevo di Mesagna, oltre mille visitatori tra cui stranieri dei primi cinque giorni. Ben ritrovati, la cronaca in apertura di questa edizione della telegiornale. Si sono sottratti alla cattura nella blitz di martedì scorso. Ora è caccia da parte dei carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni al presunto boss della Sacra Corona Unita. Non è stato ancora ufficialmente emesso un decreto di latitanza, per cui tecnicamente sono ancora solo ricercati, ma è ormai chiaro che Gianluca Lamedola e il padre Cosimo abbiano scelto la via della fuga. Il 34enne, ritenuto il capo del clan della Sacra Corona Unita, che controllava gran parte delle attività illecite in provincia di Brindisi, e quel padre che per lui è una sorta di fratello maggiore, visto che si passano solo 17 anni, sono al posto numero uno e numero due in questo momento, tra i ricercati in Puglia. I carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, quando martedì mattina hanno bussato alle loro abitazioni per eseguire due delle 22 ordinanze di custodia cautelare per mafia, sapevano già che non li avrebbero trovati. Da sei mesi i Lamedola avevano scelto la via della clandestinità, avendo ormai la certezza di essere indagati dalla DDA e di rischiare in caso di processo una condanna a doppia cifra. A dare la definitiva certezza che i carabinieri fossero sulle loro tracce, era stato l'arresto, avvenuto poco più di un anno fa, di due killer autori di un duplice tentato omicidio a San Vito e fermati dai militari prima che fuggissero con 30.000 euro in contanti, trasportati in un borsone per pagarsi la latitanza. In quell'occasione i carabinieri e la DDA scelsero di bloccare i killer anche a rischio di compromettere la segretezza delle indagini. Nelle settimane successive, più volte Gianluca Lamedola fece bonificare da microspie le auto e la masseria e probabilmente bella certezza di essere intercettato da lungo tempo. Saranno decisive le prossime ore per capire se la fuga di padre e figlio, iniziata con un certo vantaggio rispetto all'esecuzione degli arresti, si interromperà subito o si trasformerà in una vera e propria duplice latitanza. Non è escluso che i due abbiano già lasciato l'Italia. C'è un indagato per la morte della motociclista fasanese in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa nei pressi di Laureto. Ci sarebbe un indagato per la morte di Antonello Savoia, il commercialista fasanese deceduto domenica scorsa dopo una caduta con la sua moto da enduro sulla statale 172 nei pressi di Laureto. Si tratta di un giovane automobilista che aveva rotto la coppa dell'olio della propria auto, urtando contro un sasso caduto dalla parete rocciosa poco lontano dal luogo dell'incidente. Proprio quella chiazza d'olio avrebbe provocato poi la caduta di Savoia in prossimità della stessa roccia che costegge in quel punto la strada. L'automobilista sarebbe indagato per non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo, ma a sua volta aveva subito le conseguenze della caduta di quella pietra sulla strada da una roccia che evidentemente non era in sicurezza. Insomma, una situazione molto complessa sulla quale inciderà notevolmente il rapporto che verrà redatto dalla polizia locale intervenuta dopo l'incidente. La salma di Savoia, dopo l'esame otoptico, è stata restituita alla famiglia per i funerali nella chiesa di San Francesco da Paola a Fasano. Sempre più compromessa la situazione della sanità in Puglia, la denuncia quasi quotidiana da parte degli utenti, ma anche di coloro che operano negli ospedali. A quanto pare la Regione Puglia ha vietato ai medici di cambiare nosocomio e noi questa mattina abbiamo raccolto il parere dei sindacati. Sentiamo Cristina Cavallo. Ai medici pugliesi per un periodo non determinato hai vietato cambiare ospedale come da recentissime disposizioni regionali. I sindacati di categoria non ci stanno. Tenuto conto della necessità di garantire la continuità assistenziale, soprattutto nel periodo estivo, si dispone che i dirigenti medici, già dipendenti a tempo indeterminato di strutture sanitarie pubbliche, non possono essere assunti da altre aziende ed enti di servizio sanitario regionale, fino a nuove disposizioni regionali in materia. E' quanto si legge in una comunicazione inviata l'11 luglio ai direttori generali delle ASL e degli enti del servizio sanitario pugliese e firmata dall'assessore alla sanità Rocco Palese, dal direttore del dipartimento promozione della salute e del benessere animale Vito Montenaro e dal dirigente del servizio strategie e governo dell'assistenza territoriale, rapporti istituzionali e capitale umano Antonella Caroli. Il sindacato chiede ulteriori lumi su questa nota alla Regione, come sottolinea Arturo Oliva. Io spero intanto che la Regione chiarisca la nota, perché la nota a me non è affatto chiara, in quanto sono fermamente convinto che non possano essere negati dei diritti sanciti da norme contrattuali e da norme di legge. Non si può impedire ad un dipendente di una struttura a tempo indeterminato che ha vinto in concorso in un'altra ASL di spostarsi. È chiaro che deve rispettare i termini di preavviso, questo è scontato, ma nessuno può impedire la possibilità di andare da un'ASL all'altra. Con tale iniziativa avviamo un processo di collaborazione virtuosa con il Tribunale di Bari, che intendiamo estendere anche agli altri tribunali competenti per l'intero territorio della ZES Adriatica, nella quale è compresa anche Brindisi. Così il commissario della ZES, Magno Guadagnuolo, in merito alle novità che interessano la zona economica speciale. La ZES Adriatica e il Tribunale di Bari infatti hanno avviato un progetto pilota per favorire nuove iniziative imprenditoriali attraverso l'utilizzo di immobili ricadenti nella ZES sottoposti a procedure concorsuali ed esecutive. Il progetto prevede che i curatori e i periti nominati dal Tribunale per la stima di immobili industriali e commerciali verifichino se gli stessi ricadano nel perimetro della zona. Il progetto produrrà un duplice effetto. Da un lato si agevolerà e velocizzerà per il Tribunale la vendita degli immobili oggetto di asta giudiziaria e ragione dei benefici previsti proprio per le aree ZES. Dall'altro gli investitori potranno avere un'ulteriore facilitazione e convenienza nell'acquisizione dei suoli e degli immobili dove allocare le iniziative imprenditoriali beneficiando dei vantaggi ZES quali semplificazioni amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica e alle agevolazioni fiscali. Il progetto si contraddistingue come buona prassi anche sul tema della sostenibilità ambientale aggiunge e conclude Guadagnolo in quanto favorendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali attraverso l'utilizzo di mobili esistenti nuovi o da recuperare minimizza il consumo di suolo coerentemente con gli obiettivi individuati dall'agenda 2030. Garantire la sicurezza di bagnanti e di portisti per questo motivo la Capitaneria di Porto di Brindisi ha intensificato i controlli su tutto il territorio. Abbiamo ascoltato il comandante Luigi Amitrano. Controlli spiaggia sulle litorane in mare super lavoro della Capitaneria di Porto di Brindisi nel periodo estivo. L'obiettivo è garantire la sicurezza di bagnanti e di portisti. Nelle scorse ore effettuati accertamenti in alcuni stabilimenti balneari, ad esempio se strutture sono state sanzionate in via amministrativa con sanzioni di circa 1000 euro ciascuna. Una struttura in particolare nel comune di Ostuni e un'altra del comune di Fasano sono state sanzionate amministrativamente per violazioni dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto per carenza di dotazioni di primo soccorso. Un altro stabilimento balneare presente nel comune di Brindisi è stato sanzionato invece in quanto l'assistente ai bagnanti veniva utilizzato in altre mansioni. Sì ma noi ci siamo organizzati e ci siamo organizzati per tempo proprio per garantire la fruibilità delle spiagge e la fruibilità dell'ambiente mare da un punto di vista di portistico in assoluta sicurezza. Quindi abbiamo dato una serie di consigli, abbiamo disciplinato le attività per la balneazione sicura attraverso un'apposita ordinanza e pertanto attraverso la presenza quotidiana garantiamo appunto la sicurezza della navigazione. Infine un appello, nell'assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva si sensibilizzano tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. ma soprattutto che si svolga un'estate sicura e serena perché c'è bisogno anche di un po' di tranquillità da parte di tutti i fruitori delle spiagge e quindi la nostra presenza sarà assolutamente discreta ma tesa comunque a fornire i consigli per garantire la massima sicurezza comunque. Ad ora parliamo di cultura, del grande successo della mostra Caravaggio e il suo tempo di scena a Mesagne nel Castello e lo sarà fino all'8 dicembre prossimo. Nei primi cinque giorni di apertura circa mille visitatori tra i quali molti stranieri. Oltre mille visitatori molti dei quali stranieri in pochi giorni. Piace e non poco il classico dei classici, la mostra dedicata a Caravaggio e il suo tempo tra naturismo e classicismo di scena a Mesagne, capitale della cultura di Puglia 2023 fino all'8 dicembre. I capolavori del Merisi sono esposti nel Castello Normanno Svevo. L'evento, certamente uno dei più culturalmente rilevanti di Puglia, è frutto della sinergia tra l'amministrazione comunale e la rete di imprese Maese Experience. Noi abbiamo deciso con il curatore, il professor Pierluigi Carofano e il suo comitato scientifico, di ripercorrere la vita di Caravaggio. Quindi partiamo da quello che Caravaggio vede prima di iniziare a dipingere, o meglio, quando è giovanissimo inizia a dipingere, quindi i maestri milanesi, i maestri bolognesi, da Ludovico Annibale Carracci, da Bassano, Peter Sano che poi è stato il suo maestro, fino ad arrivare a lui, quindi a Michelangelo Merisi. Allora, la mostra è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, il lunedì mattina è chiusa. A proposito di mesagne, a proposito di cultura, l'amministrazione comunale, insieme all'amministrazione comunale di Latiano, è pronta al rinnovo della Convenzione per la gestione, la conservazione e la valorizzazione della sito di muro tenente. Nella Convenzione sono escluse due università. Tutto pronto per il rinnovo della Convenzione per la gestione, conservazione e valorizzazione del parco archeologico di muro tenente, ad otto anni dall'ultimo accordo. L'accordo tra la soprintendenza e i comuni di Latiano e Mesagne passa attraverso i consigli comunali già convocati. A Latiano la seduta è prevista il 24 luglio in prima convocazione e il 26 luglio in seconda convocazione. Nella Convenzione non figurano la Libera Università di Amsterdam e l'Università del Salento, nonostante l'impegno profuso verso il sito archeologico. Le due università, qualora dovessero compiere ulteriori ricerche e approfondimenti, potranno chiedere il permesso di scavo. Ad avere un maggiore ruolo sarà ora la soprintendenza. I due comuni firmatari si impegnano a gestire il sito per garantirne la conservazione, la promozione e la fruizione relativamente alle aree presenti, eventualmente anche tramite ricorso a soggetti terzi appositamente individuati. In particolare i due comuni garantiscono l'apertura del sito alla pubblica fruizione, ma anche le necessarie opere di conservazione e le attività di promozione. Gli introiti corrispondono al ristoro per i costi di manutenzione ordinari e straordinari sostenuti, nonché per gli ulteriori interventi effettuati a vantaggio della sicurezza. I due comuni forniranno annualmente al comitato di gestione il quadro consuntivo per l'anno passato e il quadro preventivo per l'anno successivo. Unica novità che ha suscitato non pochi malumori l'esclusione delle due università. Per il muro tenente si profila un nuovo corso per la valorizzazione dell'importante sito archeologico. Tutto anche per quanto riguarda il telegiornale di Brindisi. Ci rivediamo fra pochissimo per le notizie da Lecce e provincia. Si sentono abbandonati a se stessi i residenti di via Sozzi Carafa a Lecce, zona in cui ieri esplosa una bombola di gas in un appartamento apparentemente disabitato, le testimonianze dei cittadini. Mentre l'estate è entrata nel suo periodo più caldo non solo dal punto di vista climatico, continuano i lavori nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lecce con conseguenti disagi per cittadini e viaggiatori. Il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha premiato oltre 90 agenti di polizia locale che hanno conseguito un attestato importante di merito. Voce ai cittadini, in apertura di questa edizione della telegiornale di Lecce, si sentono abbandonati a se stessi i residenti di via Sozzi Carafa, zona in cui ieri esplosa una bombola di gas in un appartamento apparentemente disabitato. Questa mattina ci siamo recati sul posto e abbiamo raccolto delle testimonianze. Sentiamo. Queste case sono abitate in realtà? Sì, c'è gente che è sulla finestra, guardo tutto, si rampicano al tubo del metano e salgono e dormono. Poi a volte mi vede che io lo vedo, mette la tenda per non farsi vedere. Dico, è peccato, ma si è baccato, il comune non passa il guai, non passa il guai il comune. E tra l'altro lei parlava anche di atti osceni, vero? Sì, c'è coppie che fanno sporchizia qua. Una situazione di degrado, quella che abbiamo documentato a Lecce in via Sozzi Carafa, dove nelle scorse ore presso le casse popolari sequestrate è scoppiata una bombola di gas in pieno giorno ed i residenti si lamentano. Lei invece ci diceva, è venuta l'assessore ai servizi sociali, ha visto quello che c'è, ma in realtà cosa vi ha proposto? E' venuto di nuovo l'assessore per proporre a noi residenti ginnastica dolce, di fare un cinetto, e io mi girai sinceramente e dissi scusa che lei sta venendo qui a proporre queste cose quando ci sono più cose serie da cui pensare. Signor Ciccardi, noi ci vediamo periodicamente, veniamo qui a trovarvi, facciamo speciali servizi per il Tg, trasmissioni, in realtà io vi devo dire che ogni volta che vengo, quindi verrò una volta al mese, un mese e mezzo, trovo sempre qualcosa che peggiora, non migliora. Purtroppo questa è una situazione che degenera da un po' di anni, perché da un po' di anni mancano i comitati, come diceva il sindaco, comitato di quartiere, ma io dico i consigli di quartiere. Un appello al sindaco. Vogliamo che tornino in essere i comitati di quartiere come aveva in progetto. Fra ieri e oggi non è cambiato niente, con quello che è successo niente. Poi c'è tutto il degrado che si può vedere benissimamente, ora ci sono gli operai che stanno chiudendo la recinzione, con la speranza che si risolve qualcosa. L'estate è entrata nel vivo, Lecce è letteralmente presa d'assalto dai turisti, nel frattempo però nei pressi della stazione ferroviaria, anzi proprio la stazione ferroviaria, sono in corso dei lavori, ovviamente con evidenti disagi per i cittadini e per i viaggiatori. Guardi, è veramente uno schifo questa città, che non ti offre servizi, che non ci sono bus che passano ogni minuto. Le grandi città sono più organizzate di questa piccola città, che ci fa vivere malissimo. Le circolari non esistono, o se esistono uno ogni morte di Papa. Strade bloccate, macchine in doppia fila, autobus costretti a manovre di fortuna con l'ausilio della polizia municipale. Disaggi su disagi, perché diretto in stazione per accompagnare o accogliere, un amico o un familiare. I lavori nel piazzale Oronzo Massari, seppur necessari, continuano inevitabilmente a produrre non poche difficoltà, non solo le eccesi, ma anche ai suoi tanti turisti. Cosa dobbiamo fare? Non si può entrare neanche in stazione. Siamo messi bene, via. No, veramente è una cosa incredibile qua. Tanta gente deve arrivare, proprio questo periodo, non si mettono d'accordo a fare le cose. Una cosa indescrivibile. Adesso deve arrivare mia moglie, arriva da Milano, e se passo di qua non so come farla a prenderla. Stanno facendo dei lavori importanti. Si sta in macchina, il climatizzatore, aspetta i parenti, in doppia fila. I lavori vanno fatti, adeguamenti vanno fatti, c'è lavoro per tutti, bisogna avere pazienza. Eh, male, male, male. No, in effetti, non ci sono parcheggi. Molti gestori non consentono agli utenti di entrare nei lidi privati muniti di borse e frigo. Abbiamo cercato di capirne di più. Si può fare, non si può fare. Abbiamo chiesto aiuto ad un legale. Sentiamo. Frequentare uno stabilimento balneare con il caro ombrelloni che incombe pesa già abbastanza sul bilancio familiare. Se a questo poi si aggiunge l'abitudine diffusa dei gestori di vietare ai clienti di portare borse e frigo in spiaggia, allora una giornata al mare potrebbe rivelarsi alquanto proibitiva. Ma la borsa a frigo è un reato o non è un reato? No, in realtà tutte le strutture balneari poggiano su un terreno di proprietà dello Stato e operano per concessione. Questo significa che in realtà il suolo sul quale operano è di proprietà dello Stato. Quindi loro devono rispettare tutte quelle che sono le normative imposte e nello specifico quelle delle leggi regionali. E assolutamente in nessun punto della legge regionale, in particolar modo quella di maggio del 2023 della regione Puglia, è previsto un divieto a consumare del cibo portato dalla propria casa. Anzi, l'articolo 4 e l'E3F prevede anche proprio la possibilità delle persone di consumare del cibo in spiaggia anche non acquistato in loco. Non si può pretendere ovviamente di portare la classica lasagna in spiaggia o comunque attrezzare quasi un picnic in un lido che magari punta all'eleganza e alla serenità dei propri clienti. Molti stabilimenti hanno la vigilanza all'entrata. Molto spesso chiedono di visionare non soltanto la borsa a frigo che potrebbe essere magari una cosa ingombrante ma addirittura la borsa la classica borsa di paglia quindi la borsa personale. Io devo darla? Assolutamente no, assolutamente no. Qualsiasi tipo di perquisizione può esercitarla solo un ufficiale giudiziario o un pubblico ufficiale. I vigilantes non sono pubblici ufficiali. Il prefetto di Lecce, Luca Rotondi ha premiato 90 agenti di polizia locale che hanno conseguito un importante attestato di merito. Il prefetto della provincia di Lecce, Luca Rotondi ha incontrato circa 90 uomini e donne di numerose polizie locali della provincia di Lecce che al termine di un apposito corso di formazione hanno superato con esito positivo gli esami per il conseguimento della patente di servizio titolo abilitativo per la guida dei veicoli e dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dei compiti di istituto tra cui in particolare i servizi di polizia stradale. All'incontro hanno preso parte i membri della commissione provinciale che ha eseminato i candidati nonché i comandanti delle polizie locali interessate. Il prefetto Rotondi ha consegnato a ciascun operatore una lettera di ringraziamento esprimendo vivo compiacimento per l'attestazione di professionalità raggiunta con il conseguimento della patente di servizio. Inoltre ha rivolto a tutti i comandanti di polizia locale e provinciale un sentito ringraziamento per il servizio reso al territorio e alla cittadinanza tutta quali primi conoscitori dei rispettivi territori e delle stanze dei cittadini rimarcando la necessità di proseguire con ogni sforzo possibile nell'azione di impulso tesa a valorizzare la sinergia tra polizie locali e forze dell'ordine ciascuna nell'ambito delle proprie competenze al fine di garantire alla collettività salentina una cornice di sempre maggiore sicurezza e vivibilità dei territori. E' stata inaugurata a Cutrofiano la nuova sede del sindacato che fa parte della CONFSAL. E' stata inaugurata a Cutrofiano la nuova sede del sindacato SNADAPI CONFSAL per il taglio del nastro presenti vari dirigenti del settore. Cutrofiano naturalmente ringrazia perché si aggiunge un servizio agli altri già esistenti sul territorio. Cutrofiano ha la caratteristica di essere un po' centrale rispetto a tutto il Salento e quindi per questo insomma siamo onorati di questo servizio che comunque è un servizio rivolto a tutti e alla cittadinanza in particolare. Un'importante giornata oggi per l'inaugurazione di una nuova sede di SNADAPI un sindacato vicino al mondo dei lavoratori e non solo quindi una maggior tutela per tante famiglie che in questo periodo soffrono molti problemi soprattutto problemi di rappresentanza e tutela. Quindi oggi a Cutrofiano siamo contenti di sostenere come partite IVA nazionali questa nuova apertura. Anche oggi credo sia un'occasione importante per andare sul territorio con le nostre politiche attive del lavoro e con ARPA al Puglia e i centri per l'impiego. apriamo a tutte le confederazioni e ovviamente a coloro che hanno a che fare col mondo del lavoro. Questo sarà un punto di riferimento per tutta la zona anche perché il nostro sindacato si sta radicando molto bene sul territorio opera tranquillamente e viene in aiuto di tutti i lavoratori giovani e meno giovani. Allora parliamo di un'opera d'arte tutta da gustare soprattutto d'estate con le temperature alte parliamo del caffè in ghiaccio. Bere un caffè non è semplicemente bere un caffè ma anzi quasi sempre bere un caffè porta con se rapporti interpersonali da costruire o rafforzare momenti preziosi da condividere con persone care o spesso rappresenta una finestra del proprio tempo riservata a se stessi. momenti preziosi insomma che quella bevanda sa suggellare se poi il caffè in questione è frutto del genere artistico di un artigiano del prezioso chicco nero allora è tutto più gustoso. Ho creduto di mettere quest'altro prodotto per renderlo ancora più più completo e più piacevole però diciamo è un prodotto sempre ricavato dal caffè la preparazione è sempre a base di caffè metto le pericettuali viene montato e a temperatura fredda una volta montato poi diciamo viene inserito nel caffè in ghiaccio o con lo zucchero o con il latte di mandorla così il prodotto viene molto più più ricco e più piacevole da degustare e con questa cremina questa variante gli ha dato diciamo una spinta maggiore alla alla sia alla richiesta sia anche al piacere di bere questo caffè in ghiaccio con la cremina una vera e propria sfida imprenditoriale dove la tecnologia si fonde con la professionalità l'accoglienza e tutte le novità della sfida lanciata da Honda una vera e propria sfida imprenditoriale quella che state lanciando oggi sì diciamo una bella sfida una bella sfida perché riportare il brand Honda dopo 15 anni qui a Lecce diciamo è una gran bella sfida lo facciamo appunto con uno dei primi cinque costruttori al mondo di autovetture che è proprio appunto Honda quindi di conseguenza è giusto diciamo evidenziare quelli che sono degli aspetti importanti diciamo da questo punto di vista in un mercato dell'auto che non ha passato però dei momenti semplici quei sono gli obiettivi da oggi in poi pensando in rosa ovviamente sì diciamo che il mercato è quello che è però è un mercato che in un certo qual modo si aspetta anche diciamo della qualità e in questo caso appunto possiamo dire che Honda da sempre è stato appunto sinonimo di qualità e anche innovazione da un certo punto di vista perché diciamo la tecnologia full hybrid in un certo qual modo è una tecnologia che oggettivamente un po' rassicura il consumatore rassicura diciamo il cliente nel rispetto dell'ambiente ma anche appunto conservando quelle prestazioni che comunque sono tipiche di una vettura diciamo di questo segmento e comunque di questo di quello che il mercato oggi ci chiede le esperienze e la storia della concessionaria Autotrend evolvono per offrire ai propri clienti un servizio innovativo al passo con i tempi direttore a voi piace pensare ai fatti e poco alle parole questo fatto importante sì è sempre stata la filosofia di Honda non pensare troppo a grandi proclami ma sempre con i fatti dimostrare la nostra forza un esempio sono le nostre vittorie in Formula 1 in MotoGP e in altre manifestazioni motoristiche dove cerchiamo sempre di dimostrare con i fatti le nostre bravure invece che parlare è tutto anche per quanto riguarda l'edizione provinciale del telegiornale di Lecce restate con noi perché fra pochissimo c'è lo sport rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti